Ciak! Queste sono soddisfazioni Laura! Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo video. Questo è un videotag, un video in collaborazione con Laura Venturelli, la conoscerete tutti, insomma è una ragazza stra divertente, fa video da un sacco di tempo e io l'ho conosciuta non tantissimo tempo fa, sarà più o meno qualche mese Laura che ti conosco. Lei mi piace un sacco, una ragazza spontanea, semplice, diretta, fa video come li facciamo noi, così belli alla buona e un giorno appare con questo e da lì ho iniziato a invidiarle questo ciak tantissimo e è iniziato un po' un gioco tra di noi e a un certo punto ho detto perché non trasformare questo gioco in un tag, no? E così è nato questo ciak tag in collaborazione appunto con Laura Venturelli. In cosa consiste? Consiste in dieci domande, cinque scritte da Laura, cinque scritte da me, beccatevi pure... Sono domande che mettono in correlazione i film con i libri, o meglio i libri con i film. Io mi sono divertito un sacco a farlo con te, è nato in modo molto naturale, come tutte le cose più belle sono semplici, e quindi se una cosa va come deve andare vuol dire che deve andare così. E sono veramente strafelice di aver fatto questa collaborazione con te, ti mando un abbraccio enorme e prova a sentire un po' cosa ho da dirti in questo... a te ovviamente, tutti voi che avrete il cuore di stare ad ascoltarvi. Allora, la prima domanda è Oscar maschile, no? Quindi le prime cinque domande le scritte te Laura e le altre cinque le ho scritte io. Quindi Oscar maschile, quindi l'Oscar che va a un personaggio maschile, al miglior personaggio maschile, no? Dei libri e io questo primo Oscar lo consegno a Io Cagliostro, ma qualche vista. Io sto registrando, spero si veda, no? Perché ho il flash, quindi non mi vedo ed è un vantaggio per me, però sono cazzi... Lo so, è il problema... Io Cagliostro, ma qualche vista, un personaggio che io ho amato, un libro che ho amato, un personaggio pazzesco e... beh, sicuramente lui. Se non avete letto questo libro, fatelo perché è un libro che veramente merita. Due, un Oscar a un personaggio femminile e io ho scelto Irin, no, T-Rin, con la T, Irin, la protagonista di Aismar. Di questo ve l'avevo già parlato, un libro meraviglioso, questa è la coppia che mi ha regalato Vale perché la mia se l'è simpaticamente fregata una persona, vabbè, pace, mai prestare libri, eh, diciamo, Maria, però vabbè, insomma... Questo, Tiri, un personaggio forte, la classica bella, no, con le cose, insomma... Forte, una guerriera, una regina, un personaggio delineato, forte, che fa di tutto per salvare il proprio popolo. Aspettate che... Quindi, sicuramente quello. Terzo posto, terza domanda. Un libro che merita una stella d'Hollywood? Questa l'ho intesa un po' come un po' il nostro libro preferito e questo. Ad oggi è ancora il mio libro preferito, è La strada verso casa, di Anne de la Clare. Un libro, come spesso detto, forse è ancora il mio preferito proprio perché l'ho letto in un periodo particolare della mia vita, magari leggendolo a distanza di tempo non lo troverei così straordinario, lo troverei sicuramente un bel libro, ma non il mio preferito. Però ad oggi è comunque, per circostanze e accadimenti, è ancora oggi il mio libro preferito. Terzo punto era questo. Quarto punto, un libro che speri diventi un film. E io ho citato questo, Half Bad. Questa è l'ultima trilogia che ho iniziato, credo sì sia l'ultima, ed è una trilogia che sto amando, no è una trilogia, uscirà Half Lost da poco, Vale mi ha appena regalato Half Wild, che è introvabile, io l'ho girata tutta Como, non ho trovato una coppia che fosse una, ho girato su Amazon, pure su Amazon, Vale me l'ha preso su IBS, credo, e pure lì ho avuto problemi ad essere consegnato, insomma è un libro, sto parlando di Half Wild, è del secondo. Questa invece appunto è Half Bad e in generale spero che facciano un film di tutta la trilogia, Half Bad, Half Wild e Half Lost che sta per uscire. Bellissimo, fuori dagli schemi, è un fantasy bellissimo. Tra l'altro Laura questo te lo consiglio, eh. Lo consiglio a tutti, è un fantasy che mi è, boh, strapiaciuto Giordi, perdone. Quinto punto, un libro da cui hanno tratto un film che però non ti è piaciuto. E io qua chiedo scusa a Silvia, tra l'altro Silvia oggi ci siamo sentiti, ti mando un abbraccio enorme, te sai, te sai, parlo di SissiTube, e so che a te è piaciuta la trilogia, a me è piaciuta un sacco la trilogia dei libri, ma non i film, i film non mi sono piaciuti, ho citato La Ragazza di Fuoco di Hunger Games, perché diciamo Hunger Games il primo è un libro che, c'è un film che non mi è dispiaciuto, dal secondo in poi, poi già il fatto che avevano diviso in due il terzo, ho degli irrisolti con la protagonista, che a me non piace onestamente, l'attrice protagonista, e i film li ho trovati molto lenti, monotoni, no, sinceramente no, e quindi questo. Sesto punto, un libro di cui esiste un film che non vedi l'ora di andare a vedere. E questo ci tocca, e a tanti piccioni tocca, ed è La Casa per Bambini Speciale di Miss Peregrine. Questo è un film che spero di vedere con più gente possibile, perché secondo me sarà un capolavoro. Già c'è Vale e Sabri, per notate, c'è Fra, Stetti tocca pure a te. No, però anche Stefania l'ha presa bene, di solito quando si tratta di libri e cose un po'... Però in realtà la trasposizione cinematografica è di Tim Burton, quindi alle Tim Burton piace la storia, ho capito che le può piacere, quindi... E che è sicuramente questa, non vedo dove andare a vederlo perché ho amato questo libro, ho amato... Tra l'altro Sabrina, delle Cronache dei miei film, ha fatto un tag su questo... Aveva inventato un po' di tempo fa un tag su questo libro, un tag bellissimo, l'avevo fatto anch'io, l'avevamo fatto parecchi, e se vi capita andate a guardarlo, e se non l'avete fatto, fate, perché è un tag molto carino, soprattutto adesso in onore dell'uscita del film, sarebbe una cosa carina rispolverarlo, ed è appunto la casa per bambini speciali degli Spermi. Poi, io lo lancio, ma non so mai... Settima domanda, un film migliore di un libro? Allora, quindi la trasposizione cinematografica di un libro che è stata migliore rispetto al libro stesso. Io ho fatto molta fatica, e ho scelto questo, ho scelto Non ti muovere, di Margaret Mazzantini, il film era di Castellito, io avevo visto il film e ho letto dopo il libro, e ho scelto questo libro in questa categoria, allora, che ne dica Cacio Caciotta, che vi saluto, lui è un amante dei film, quindi ovviamente è un... è un C... aia... Cinefilo, o cinofilo, porco, non lo so. Allora, cinefilo e cinofilo. Il cinefilo è il cane cinofilo. Comunque, gli piacciono i film, e quindi lui sostiene che appunto, giustamente, no, ovviamente, io amo i film, eh, ci mancherebbe i film, li adoro, però generalmente tendo a preferire il libro, proprio per il viaggio mentale che fa e la maggiore libertà. Però in questo caso ho scelto questo, forse proprio perché l'ho visto per primo. Quindi ho visto prima il film e poi ho letto il libro, e quindi ho scelto questo per questa categoria. Ottava domanda. Un libro che non conoscevi e che hai scoperto dopo il film, e questo qua è un libro che io ho amato, un film che ho adorato, ed è Un Ponte per Terapitia. Debbie, so che ti è appena arrivato, leggilo, è veramente favoloso. Anzi no, l'hai ordinato, non ti è ancora arrivato. Questo è un libro che consiglio a chiunque non l'abbia letto. È un libro di una dolcezza assoluta. Parla di amicizia, parla di sentimenti veri, parla di fantasia, e parla di come affrontare dei dolori. Ed è un libro, secondo me, che vale veramente la pena leggere, ed è un film che vale assolutamente la pena vedere. E quindi io ero andato a vedere questo film con mio fratello, e da lì ho scoperto che era tratto da un romanzo del 77, di questa autrice che si chiama Kathleen Peterson, e l'ho letto ed è un piccolo gioiello, perché poi è scritto anche molto largo, e vedete si legge veramente in poco. Adesso va intanto... C'è un sacco di challenge e tutto quanto, quindi se volete un libro piccolo per una challenge leggete questo, ma in realtà qualsiasi sia il presupposto per leggere questo libro, leggetelo, perché è un libro che merita un sacco. La penultima domanda è È un romanzo talmente vivido che ti è sembrato di vedere ad immagini più che a parole, più che leggere a parole, no? E io ho citato questo. Questo è un libro che ho amato follemente di Barbara Ewing, Il circo fantasma. A parte la figata di avere le pagine rosse così, no? È un libro corale, è una saga di una famiglia che si snoda nella New York degli anni 20, mi pare. Mi ricordo che gli anni precisi, o fino a 800. Avessi messo una data, no? Ho riassunto tutto. Parco, è giusto se avessi una data. Non sei all'interno e trovo qualcuno. Comunque è tra fine 800 e inizio 900 e si respira proprio la... Quel periodo lì. E si respira proprio quell'atmosfera. Io leggevo questo libro, mi guardavo intorno e vedevo immagini. Quindi assolutamente quello. L'ultima categoria è appunto un attore e un'attrice che sono gli interpreti, un personaggio di un romanzo che hai letto. Allora, io ho scelto l'attore. Ho scelto l'attrice. Gli attori ho fatto fatica, ci sono... Insomma, la domanda è un po' aperta. Potete scegliere o un attore o un'attrice, oppure sia uno che l'altra. Io ho scelto un'attrice per un romanzo che ho amato tantissimo. Un romanzo non tradizionale, un romanzo d'atmosfera, più che di storia. Che è appunto questo, di Colleen McCullough, La casa degli angeli. E per la protagonista, che è una persona, una donna, sicuramente un'artista, una persona molto enigmatica, ma nel senso tempo molto forte, un personaggio che vive completamente controcorrente, non gliene frega alcun cacchio di niente, no? Ed è un personaggio bellissimo, vorrei un sacco vedere, ho interpretato da Cher, che è una delle mie cantanti preferite e attrici preferite, è la mia artista, una delle mie artiste preferite. Perché è una che va controcorrente, è una che fa esattamente ciò che vuole, con un talento fuori dal comune, una simpatia immane, ha tutte le caratteristiche più fighe di questo mondo, cioè, quindi mi piaceva un sacco vederla interpretare questo... questo... eh, mi toglie la soddisfazione, ma questo libro. Allora, col Chuck, che tanto ho agognato, io vi saluto, vi invito ad andare sul sito di Laura, sul appunto canale di Laura, che si chiama Laura Venturelli, io ancora non ho il computer, quindi ancora non riesco a linkare il canale, però è il suo nome, Laura Venturelli, quindi è molto semplice andare a trovarla, e andate a trovarla, perché merita, merita davvero tanto, è una persona genuina, è una persona che mi piace un sacco. e... chi taggo? Allora, chi taggo? Taggo... non ho preparato i tag, però taggo sicuramente Melania, perché muovo su YouTube, ed è giusto che faccia un po' di tag per rodare il più possibile, farsi conoscere il più possibile, è una ragazza che vi invito ad andare a vedere, si chiama Melania Costantino, ed è una persona che mi piace veramente un sacco, è una persona di un'umanità assoluta, bella, è proprio una bella persona, in toto, quindi assolutamente lei. Taggo Vale di Vale Libri, che dice che non la tagga più nessuno, quindi Vale fatti pure sto tag, e tra l'altro i libri li abbiamo scelti insieme oggi, quindi... però fattelo, vabbè, però li scegliamo pure i tuoi insieme. Poi Angela, di Angela Cagnucciara, è una vita che non ti taggo più, quindi pure te. Jordi, del canale Jordi, KKPIS, sono molto curioso delle tue risposte, e... non taggo delle Duffbox, perché ormai mi affine le balle dei video tag, però l'ultima persona che ci tengo a taggare, è Massi, di Massi Viard, che è un po' che non fa video, e... è un ragazzo molto particolare, al quale mi sono molto affezionato, anche se ci siamo scritti in un tantissimo, però... tre cose ma sane, da quelle tre cose ho visto un bel mondo dietro a questa persona, e... essendo un po' che non fai video, insomma, spero che questo sia un po' il pretesto per farti ritornare a fare video. E... con questo ho finito, ne ho detto, e ho lanciato, ho fatto, quindi... come al solito, io devo fare il giro dalla telecamera per spegnere da dietro, e... quindi vi lascio col ciak, e... come sempre, state bene. Insomma, state bene, però io ora che stoppo, avevo voglia. Eccolo qua, state bene. Eccolo qua.